Spesso in questi ultimi anni è stato trattato il tema dell'ecologia, ma da molti come qualcosa di astratto, disconnesso dalla vita quotidiana, un impegno per una causa distante da noi. Così per sensibilizzare maggiormente le persone su questo argomento abbiamo ripreso e fotografato diversi edifici della nostra città, Vercelli, che stanno subendo uno stato di abbandono. Come primo esempio però abbiamo voluto portare qualcosa di positivo, cioè l'ex ospedale Sant'Andrea, che dai vercellesi è chiamato comunemente parcheggione. Prima dei lavori di restauro si poteva osservare un grande edificio, abbandonato a se stesso dagli anni Sessanta, che percorreva buona parte del perimetro di questa grande area. Fino alla seconda guerra mondiale però, sul medesimo luogo, era presente questo ospedale maggiore Sant'Andrea, un luogo di accoglienza per le fasce di popolazione più deboli fondato nel 1224. Ora vi parlerò dell'ex ospedale Bertagnetta. Lo stabile oggi è altamente pericoloso per le sue precarie condizioni. La Bertagnetta di Vercelli è stata costruita tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, ed il suo scopo era quello di dare speranze di guarigione alle persone affette da malattie legate all'apparato respiratorio. Nella prima metà del Novecento gli ospedali erano molto meno numerosi e chi soffriva di malattie gravi o specifiche si recava in strutture di questo tipo. Oggi la Bertagnetta è simbolo di decadenza e non rimane più nulla di quel magnifico giardino che era utilizzato per favorire la guarigione dei pazienti. Il giardino infatti era il fiore all'occhiello di quell'edificio, che presentava 120 posti letto ed era strutturato su quattro piani. L'edificio venne abbandonato nel 1990 senza alcun motivo. Vennero interprese diverse strade dalla regione per poter riutilizzare la struttura. Infatti vennero stanziati la bellezza di 5 miliardi di lire. L'obiettivo era quello di trasformare l'edificio in un centro per anziani non autosufficienti. Le caserme di cui ci occupiamo sono la caserma Garrone e la caserma Giuseppe Trombone. La prima è dedicata ai fratelli Giuseppe ed Eugenio Garrone, periti nella Prima Guerra Mondiale. È costruita vicino alle mura per agevolare le operazioni militari. Venne poi chiusa nel 1991. Da allora rimane in stato di abbandono, nonostante i tentativi del comune di Vercelli, di acquistarla, per destinarla prima al Politecnico di Torino e poi all'Itis Faccio. Anticamente l'edificio ospitava gli alloggi per i soldati e gli uffici militari, mentre sul retro e a ridosso della caserma si trovava un piccolo giardino. Oggi la caserma è di proprietà del Ministero della Difesa e il cortile è diventato un parcheggio. La seconda, la caserma Giuseppe Trombone, è un ex distretto militare, dedicato al tenente e colonnello Giuseppe Demier, figura molto importante della fine dell'Ottocento. L'edificio viene abbandonato vent'anni fa. La caserma, che è di enormi dimensioni, meriterebbe di essere recuperata, soprattutto per la zona in cui è situata, ma ad oggi non è stato fatto ancora nessun tentativo. Il destino della caserma Demier sembra avere la stessa sorte, quindi, della caserma Garrone. Questa volta, però, stiamo parlando di una struttura che si ergi in tutta la sua bellezza, a pochi passi dal centro della città. Abbandonata da oltre una ventina di anni, sulla caserma Trombone si sono fatti fiumi di parole. Tra il 2010 e il 2016 vengono anche effettuati degli scavi archeologici nel cortile interno, senza toccare minimamente l'edificio. Nel 2016, dopo un sopralluogo, si pensa di destinare lo stabile ad attività commerciali. Questo sopralluogo riguarda la zona del primo piano, con l'obiettivo di realizzare una galleria di oltre 2000 metri quadri. Esiste anche un progetto per convertire la caserma Trombone in un piccolo quartiere a ridosso del centro. Il complesso ospedaliero nel manicomio di Varcelli venne completato nel 1937. Si trattava di uno degli ospedali psichiatrici più grandi d'Italia. Infatti, il manicomio si estendeva su una superficie di 28 ettari ed era servito da un'apposita stazione della tramvia verso il litrino. L'ospedale è rimasto attivo fino a 1978, quando entrò in vigore la legge Bassaglia, che vese chiudere gli ospedali psichiatrici di tutta Italia. L'edificio restò comunque utilizzato fino a 1991 e poi definitivamente abbandonato con l'inaugurazione nell'ospedale di Varcelli, il di Sant'Andrea. Nel periodo di graduale dimissione dal complesso vi vennero ospitate alcune comunità destinate agli ex pazienti in vista del loro reinserimento nel tessuto sociale. Grazie. 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 Grazie.